Porte aperte all'IRCA di Ancona nella giornata della trasparenza per illustrare a istituzioni, cittadini e associazioni di volontariato le attività e i servizi dell'Istituto. Vediamo. Un'opportunità per i cittadini per esprimere opinioni e suggerimenti utili sulle effettive esigenze della comunità, ora offerta dall'IRCA, l'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura sugli Anziani, che oggi ha aderito alle giornate della trasparenza, previste anche dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e che costituiscono un momento volto a rendere sempre più accessibile e trasparente l'operato delle amministrazioni pubbliche. Eventi pensati per condividere con i cittadini un percorso di miglioramento continuo, sia nell'uso delle risorse che nell'erogazione dei servizi, promuovendo una cultura comune dell'integrità e dell'etica pubblica. All'incontro di Ancona hanno partecipato non solo i rappresentanti dell'IRCA e delle istituzioni, ma anche quelli di cittadinanza attiva e delle associazioni di consumatori. A loro sono stati illustrati l'attività, i servizi e i nuovi canali di comunicazione dell'Istituto e anche il piano aziendale sulla performance e il programma per la trasparenza e l'integrità.